Prima prova in casa per il Cogli Albani, prima in trasferta per la Stella Azzurra. Sabato l'Alessandro Bini accoglie una sfida importante di questo campionato di Serie C2. La squadra di Cignitti vuole cancellare presto l'inciampo di sabato sul campo del Guidonia, ma davanti non c'è un avversario facile. Sono ovviamente la favorita per l'intera del campionato, noi ci presentiamo tranquilli, cerchiamo di migliorare di giornata in giornata, comunque ci dobbiamo abituare alla categoria, siamo una squadra giocale, ne ho promossa, con tanto talento, però dobbiamo anche fare esperienza in questa categoria. Però noi dovremo filo da torcere, ci proveremo in tutti i modi comunque a tenere dei punti alla prima in casa. La Stella Azzurra viene dal 5 a 0 sul number 9, in una partita anche dettata da nervosismo da parte dei giocatori e inflessibilità da parte del direttore di gara. Sarà la prima trasferta della stagione. La prima fuori casa, comunque sia un banco di prova, perché in casa magari è tutto un pochettino più semplificato. Fuori casa vediamo anche come reagiamo a livello caratteriale. Certo siamo consapevoli che tecnicamente e esattivamente siamo una grandissima squadra. Con gli Albani Stella Azzurra, per entrambe la sfida è un bel banco di prova.